Il Parco Golena del Po non sa da fare, bocciato, anche se avrebbe imposto vincoli blandi di semplice carattere sovracomunale, non data le bani dell'ecologia. La proposta è naufragata anche se avrebbe valorizzato le sponde del fiume Fra Cremona, Stagno Lombardo, Motta Baluffi e Casal Maggiore, e se ne va così un'altra occasione di dare qualche opportunità in più al turismo. Non si risolve nemmeno la strana situazione del Parco del Po e del Morbasco, Fra Cremona e Gerre dei Caprioli, dopo anni di discussioni e contraddizioni. Il duplice parco sovracomunale ha due sedi, nel capoluogo e nel piccolo comune, ma non una strategia unitaria, anche se il confronto fra il sindaco di Gerre e Michele Marchi e la giunta Galimberti è aperto e nemmeno conflittuale. Mancano risorse, ma soprattutto, come più volte hanno fatto notare gli stessi dirigenti della regione Lombardia, non si vede la valorizzazione del Po come una priorità. La primavera inizia male, invece di aprirsi una stagione di economia verde, continuano i tagli del governo più criticati dalle stesse associazioni ambientaliste cremonesi, come l'accorpamento dei corpi di polizia, su cui stanno lavorando il governo Renzi e il ministro Madia. Le guardie forestali hanno compiuto operazioni importanti per la tutela del patrimonio naturalistico, eppure il governo chiede al Parlamento libertà d'azione. La preoccupazione dei sindacati e delle associazioni è forte. Senza proteggere gli ecosistemi, la stessa salute umana e animale subisce una minaccia in più. L'ecologia, forse, fa paura alle istituzioni. Il parco naturale all'interno del Parco Olio Sud non è mai stato realizzato, e al contrario, come ricorda un esperto del gruppo Il Nibio di Spinadesco, Sergio Mantovani, ci sono micro aree di crotta d'Adda che hanno perso i vincoli per ridare libertà di caccia e pesca. E dire che non si chiedono limiti severi da talebani dell'ambiente, ma solo alcune tutele, tant'è vero che l'area industriale di Cremona si è potuta espandere senza difficoltà e confini con il corridoio ecologico provinciale. Parere positivo della provincia anche alla variante del piano di governo del territorio di Sesto ed Uniti, che non disturberà gli spiagioni di Spinadesco. Il settore ambiente della provincia ricorda che vanno collegate fra loro le aree naturalistiche, interconnettendo gli ambiti di pregio e inserendo zone tampone. La biodiversità e le specie animali vanno protette nello stesso interesse della specie umana. La primavera è iniziata, ma sotto il segno di Renzi si teme che sia ancora meno verde.